C'è soddisfazione all'interno dell'Aggiunta regionale per l'approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria siciliana. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale, messa a punto dal governo Schifani, segue e attualizza le tendenze del quadro macroeconomico italiano e siciliano, declinando anche la strategia generale della regione per i prossimi mesi. Lo ha detto l'assessore regionale all'economia Marco Falcone, dopo che Lars ha dato il via libera al documento di programmazione economica e finanziaria regionale e alla sua nota di aggiornamento. Vero è, ha continuato Falcone, che le previsioni per il 2023 parlano di decrescita, ma rispetto a questi dati il governo Schifani indica un piano di sostegno all'economia già in fase di attuazione, attraverso gli aiuti alle imprese e alle famiglie, la moratore sui mutui IRFIS e i sostegni a comuni e agli enti locali su bollette e progettazioni. Archiviata questa fase, adesso ci concentreremo su bilancio e legge di stabilità, afferma il presidente della regione Renato Schifani, e gli obiettivi sono ben delineati. Spinta alla creazione di nuovi posti di lavoro, sostegno alle imprese per il rilancio del tessuto produttivo siciliano e un forte supporto agli enti locali, ha concluso il governatore, soprattutto sul fronte delle progettazioni per metterli nelle condizioni di cogliere le nuove opportunità di finanziamento.